La seconda sezione penale della Cassazione, dopo l'udienza di ieri, ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa, confermando la condanna a 3 anni e 11 mesi per l'ex governatore dell'Abruzzo Ottaviano Del Turco nell'ambito del processo Sanitopoli. Il legale di Del Turco, Gian Domenico Cagliazza, aveva posto ricorso per chiedere di annullare la condanna a 4 anni e 2 mesi di carcere per associazione per delinquere e induzione in debita, emessa un anno fa dalla Corte d'Appello dell'Aquila nei confronti di Del Turco. In primo grado, l'ex governatore era stato condannato a 9 anni e 6 mesi dalla Corte di Pescara. Il grande accusatore di Del Turco, l'ex titolare della clinica Villapini, Vincenzo Mariangelini, in appello, era stato assolto dall'accusa di corruzione, mentre in primo grado era stato condannato a 3 anni e 6 mesi. Nel ricorso in Cassazione, l'avvocato Cagliazza aveva eccepito carenze, contraddittorietà e illogicità della motivazione e una violazione della legge, soprattutto rispetto alle norme sulla verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da Angelini. Del Turco venne arrestato il 14 luglio del 2008, assieme ad altre 9 persone, tra le quali ex sessori e consiglieri regionali. L'ex presidente finì in carcere a Sulmona per 28 giorni e trascorse altri due mesi agli arresti domiciliari. A seguito dell'arresto del Turco il 17 luglio 2008, si dimise dalla carica di presidente della regione e con una lettera indirizzata all'allora segretario nazionale del partito, Walter Veltroni, si autosospese dal Partito Democratico, di cui era uno dei 45 saggi fondatori nonché membro della direzione nazionale. Le dimissioni di Del Turco comportarono lo scioglimento del Consiglio regionale e il ritorno anticipato alle urne per i cittadini abruzzesi che poi scelsero la figura di Gianni Chiodi. Alla condanna di primo grado, dopo un lungo processo, si arrivò nel luglio del 2013. Il Tribunale interdì del Turco dai pubblici uffici durante la pena e lo rese incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per la stessa durata. Con l'ex governatore vennero condannati a nove anni l'ex capogruppo del Partito Democratico in regione Abruzzo, Camillo Cesarone, stessa pena per Luigi Conga, ex manager dell'Asle di Chieti, sia anni e mezzo per Lamberto IV, all'epoca dei fatti segretario della Presidenza, quattro anni all'ex deputato del PDL Sabatino Aracu e all'ex assessore del PD Antonio Boschetti e due all'altro ex assessore alla sanità Bernardo Mazzocca.